Stiamo facendo la ricognizione di quanto stanno incidendo sui bilanci provinciali e sulle opere pubbliche il tema costo materie prime e il tema energetico e oggi abbiamo fatto la ricognizione sulle opere chiamiamole olimpiche principali e su una previsione di costo di circa 35-37 milioni sugli impianti di Predazzo e di Tesero, fatte gli aggiornamenti dei costi, purtroppo andiamo a circa 50 milioni quindi ci sono circa 15-17 milioni di costi in più, anche per questioni tecniche va detto ma la gran parte per questioni legate all'aumento dei costi energetici. Ecco che quindi dobbiamo andare a trovare questa quindicina di milioni in più e che quindi non possiamo mettere in altri capitoli in altre opere che ci sono state anche richieste dal territorio trentini e che però dobbiamo finanziare perché le olimpiadi sono troppo importanti e non possiamo su questo perdere tempo.